Sono otto le associazioni che hanno presentato e inviato un dossier contro la realizzazione del quarto lotto della Teramo Mare a tutti gli enti interessati per denunciare il gravissimo rischio idrogeologico per l'opera da 173 milioni di euro che ANAS vorrebbe realizzare in un'area a rischio alluvione del fiume Tordino, questo secondo le stesse carte ufficiali depositate per la valutazione di impatto ambientale. L'ANAS lo vuole realizzare in piena area di esondazione del fiume Tordino, addirittura nelle zone a massimo rischio riteniamo che soprattutto dopo quanto accaduto nelle Marche in Emilia Romagna sia del tutto inaccettabile noi l'abbiamo già scritto mesi fa, purtroppo vediamo che queste tragiche elezioni che ci provengono dalle altre regioni impaiono non essere recepite, peraltro ormai tutti i ricercatori dicono che le piene diventano sempre più estreme le precipitazioni anche a causa della crisi climatica, quindi bisogna non sottostimare come FANAS i rischi ma bisogna prenderne atto e cambiare proprio obiettivo. Nel dossier sono state evidenziate numerose criticità e sono state indicate anche delle soluzioni alternative per spendere meno denaro pubblico ottenendo anche migliori risultati in termini di mobilità realmente sostenibile conservando il territorio. Noi abbiamo fatto una proposta operativa concreta addirittura dando anche la ripartizione economica ovviamente di massima per mettere mano all'attuale statale che collega Mosciano a Giulianova per renderla efficiente e sicura. Dall'altro lato noi chiediamo che siano impiegate molte risorse per la mobilità alternativa e cioè quella ciclabile e quella con il treno. esiste la linea Teramo-Giulianova e Giulianova-Pescara con il treno crediamo che debba essere molto migliorata e si possono spendere milioni di euro in quella direzione.